Un weekend davvero di grandissima musica, quello del 12 e 13 febbraio al Foro Boario. Ospite d'onore dell'Acoustic Blues Festival sarà infatti l'armonicista Fabrizio Poggi che si esibirà domenica con la sua band. 64 anni, lombardo, Poggi è una celebrità a livello internazionale. È stato candidato ai Grammy e ai Blues Music Awards. Ha inciso 24 album, di cui 5 registrati negli Stati Uniti, e vanta decine di collaborazioni con artisti di tutto il mondo. Al Foro Boario farà sentire il suono blues della sua armonica. Oltre a Poggi, il Festival presenta altri due grandi appuntamenti. Sabato 12 si esibiranno infatti Danny Franchi, chitarrista genovese accompagnato dalla sua band, ed il trio composto da Mauro Briganti, Marco Bachi e Matteo Sodini, della Gaudaz Band, alfieri lucchesi del blues. Al Lucca Blues Festival Acoustico ci si vede anche noi.